aulina bene direi che partiamo per il nostro giro aulina mi piace innamorare questa idea aulina una bella casa perfetta per una famiglia funzionale siamo in uno stabile d'epoca in 800 secondo piano sono circa 80 litri un salotto con zona pranzo camera un bagno ideale per un giovane spettacolare una zona cucina sorpresa una bella zona cottura due camere e un bagno e il bagno e il bagno e il bagno la cabina al bagno e il bagno che bella la zona pranzo che bella la zona lindica che bella la zona pranzo che bella la zona lindica olina 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 secondo piano olina 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 l'altra parte paola la prima casa la prima casa la prima casa la prima casa non si scorda mai di fronte mai il bagno